Musica Ciao ragazzi, benvenuti a questa nuova mod review Oggi andiamo a trattare un'altra mod per la 1.7.10 Quest'oggi è una mod che aggiunge lanterne Lanterne di vario tipo, ciascuno per i vari mob presenti in Minecraft E vengono aggiunti inoltre anche i relativi spawner Che prima invece erano ottenibili soltanto con mod esterne Adesso invece possono essere ottenuti direttamente in creative Tuttavia c'è una crafting recipe per questi spawner Ma c'è un oggetto fondamentale per il crafting che non è disponibile Di cui però parliamo dopo, quindi vi parlo meglio di questa cosa dopo Adesso andiamo invece a tuffarci a vedere i vari spawner aggiunti Quindi le varie cose aggiunte Allora, il primo spawn, la prima diciamo lanterna aggiunta Adesso magari metto notte così si vede anche Si vede anche come sono di notte Dovrebbe si, buon si vede Ehm, il primo, vabbè, la prima lanterna aggiunta è quella classica Jack on lantern, quindi vabbè, crafting recipe classica Zucca e torcia E ottenete appunto la jack on lantern classica Beh, questo qua è giusto per dire Abbiamo poi quest'altra lanterna qui Che è la jack on lantern sempre Vabbè, non vi mostro i nomi perché tanto non ve ne frega niente Perché sono tutti strani Ehm, la jack on lantern classica Che si crafta Ehm, come è la jack on lantern classica Però, al posto di quella lì normale Della pumpkin normale Mettete la jack on lantern Più una torcia Poi abbiamo quella del creeper Che si crafta con Ehm, una jack on lantern Più la gunpowder Poi abbiamo quella dello zombie Che si crafta con Una jack on lantern Più una rotten flash Abbiamo quella dello scheletro Che è una jack on lantern Più un osso Quella dello Dello spider Ossia del ragno Che si crafta con una jack on lantern Più uno spider eye Cioè un occhio di ragno Quella dello slime Che è un jack on lantern Più uno slime ball Quella dell'enderman Che è una jack on lantern Più un enderpeer Quella del pig Ossia del maiale Anzi del pig zombie Che è un jack on lantern Più una gold nugget Quindi una pepita d'oro Quella del blaze Che è una jack on lantern Più una blaze powder Quella del magma cube Che è una jack on lantern Più una magma cream Quella dell'enderman Che è una jack on lantern Più il coal no che cacchio dico dell'enderman dello skeleton scusate del white skeleton poi quella del ghast che è una geccolanta più una ghastier e infine quella dello slime che è un altro tipo che è diverso che è un spawnstone che però non avete idea di che cacchio sia cioè è una cosa che serve per fare gli spawner ve lo spiego dopo più tutto intorno slime il problema è che questo oggetto qua non si può reperire non è reperibile, non c'è una crafting recipe quindi diciamo gli spawner e questo tipo di lanterna non possono essere craftati quindi non so cosa dirvi cioè nel senso che per ora non sono disponibili craftabili, magari la metteranno un crafting, quindi per ora l'unica cosa che diciamo può essere reperita in survival sono le lanterne tutte tranne questa il resto è contenuti in più che però possono essere reperiti soltanto in creative quindi adesso andiamo a vedere i vari spawner aggiunti queste sono le lanterne vi ho fatto vedere insomma come sono come si craftano andiamo dunque a vedere i vari spawner questo qua è lo spawner del creeper adesso sono in survival però sono in in peaceful quindi non... che cazzo sto dicendo? sono in creative però sono in peaceful quindi non vedete i mostri spawnare cioè li vedete ma scompaiono subito quindi per non perdere tempo a spawnarli rimango in in peaceful però li vedete per un secondo quindi ve li faccio vedere più volte quindi così li vedete questo spawna il creeper questo spawna lo zombie questo spawna lo scheletro il ragno enderman zombie pigman blades magma cube witter skeleton ghast witch e giant adesso vado a farvi vedere le recipe per questi le recipe sono tutte quante diciamo quasi simili al centro ci va quell'oggetto di cui non si sa come cavolo si ottiene perchè non è reperibile e intorno a tutta gunpowder per avere appunto quello del creeper quello dello zombie invece è tutto intorno rotten flesh quindi otteniamo quello del zombie quello dello scheletro tutto intorno ossa quello del ragno tutto intorno occhi di ragno quello dello slime non esiste bene quello del dell'enderman tutto intorno enderpearl quello dello zombie pigman tutto intorno gold nugget magma e blades tutto intorno blaze rod magma cube tutto intorno magma cream witer skeleton tutto intorno testa di witter ghast tutto intorno ghast tier e gli ultimi due witch tutto intorno netherworld e l'ultimo giant tutto intorno testa di zombie questi sono praticamente tutti quanti gli spawner aggiunti il problema sorge spontaneo perchè appunto non sono reperibili questi ossia le spawn stone dunque per ora tutta questa roba qui tutti quanti questi spawner sono reperibili sono anche in creative e anche con l'ultima lanterna lì per il resto invece è tutto reperibile dunque vedremo se poi aggiungeranno spero un modo per craftarlo perchè per ora serve a poco magari se volete fare qualcosa in creative può tornarvi utile ma se volete giocare diciamo e farveli in survival non potete e niente questo è quanto non c'è altro dunque link in descrizione ovviamente per la mod se volete scaricarla per la 1.7.10 vi ricordo e nulla questo è quanto spero vi sia piaciuta la mod review se avete qualsiasi tipo di domanda in descrizione e niente ci vediamo a una prossima mod review ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti